Il risultato è tecnologia, ma anche Rixi ha parlato di gestione delle merci in movimento. Innanzitutto io rappresento un gruppo di aziende come Telematic Service Provider Association, noi abbiamo 10 aziende al nostro interno, siamo l'unica associazione europea che racchiude gli operatori della telematica satellitare, quindi quelle aziende che forniscono gli apparati di bordo ai veicoli, ma che hanno anche le centrali operative di controllo e di gestione degli alert piuttosto che del flusso dei veicoli stessi. Sostanzialmente siamo quelli delle scatole nere per il mondo assicurativo, ma siamo anche quelli della gestione delle flotte e dei mezzi. Nel venire qui ho tanto pensato al fatto che non potevo evidentemente fare promesse di investimento, io rappresento le aziende, ma le aziende poi ovviamente fanno le loro scelte, anche se nel nostro ambito ci sono Vodafone, Cettime, c'è l'assicurazione dei generali, ma ce n'è una in particolare che è Viasat, peraltro qui presente, che ha sviluppato una piattaforma logistica che non riguarda i veicoli ma riguarda le merci. L'intuizione di qualche anno fa è stata quella di produrre in Italia, Viasat produce peraltro anche in Italia, un apparato che può essere inserito all'interno dei pallet, dei cartoni, ma anche attaccato con calamite sui container e che può servire quindi a monitorare temperatura, posizione, luogo di indirizzamento del mezzo stesso. E questa è sostanzialmente la base per tutti quei discorsi che si sono fatti prima, lo sdoganamento a distanza del container, il fatto di poter tracciare, io che ho inserito della merce all'interno di un pallet o di un container e poter tracciare che questo pallet e questo merce venga trattata nella maniera in cui il mio cliente finale si aspetta. Quindi l'idea è quella di indicare che esiste già una piattaforma, esistono già degli apparati, potrebbe essere avviata un'iniziativa imprenditoriale basata su Genova, che racchiuda, che venga presa in carico da questo hub che è fatto all'interno del porto di chi sa fare la logistica, di chi ha necessità di logistica, di chi produce, di chi gestisce il porto stesso. Dicevo, all'interno di questa struttura, di questo hub, immaginare che si possa creare una new company che utilizzi qualcosa di già pronto per avviare un'iniziativa immediatamente disponibile e che sarebbe di grande effetto e di grande facilitazione per il porto di Genova in senso lato per farlo scalare nelle classifiche internazionali. Devo dire che a Rotterdam, ad Anversa, già sistemi di questo genere sono attuati, non mi risulta che attualmente in Italia e in particolare a Genova siano efficacemente ed effettivamente avviati. Ho sentito altri discorsi di qualcuno che ha iniziato di XC Technology e ha avviato un'iniziativa commerciale, ma con un unico operatore. Qui stiamo parlando invece di un sistema più ampio e che potrebbe essere... Che potrebbe anche essere utile per il monitoraggio del traffico. Assolutamente sì. Perché qui c'è un grandissimo problema locale e circostante del traffico e il monitoraggio potrebbe essere fatto in una maniera un po' più precisa perché quando è successo il dramma del ponte, dopo, ma anche adesso con la TAV, ho sentito con le mie orecchie delle cose da far brividire, cioè il monitoraggio del traffico, dei consumi, delle cose è praticamente una cosa che viene fatta presto a poco e invece abbiamo tecnologie che lo potrebbero oggi fare in maniera esatta e darci... Noi infatti abbiamo avviato col Ministero dei Trasporti e in particolare con l'albo degli autotrasportatori una sperimentazione proprio per monitorare in tempo reale quanti mezzi passano attraverso il tunnel del Brennero. Quanti mezzi passano e quanti passano... E quanti passano sullo snodo delle 45. Sì ma lo dica però come passano? Esatto. Quanti passano come? Col doppio carico? Ah sì sì, quanti passano soprattutto col doppio carico di serbatoi pieni di carburante, quindi sono in grado di effettuare i loro giri in Italia, fare dei carichi anche intermedi senza che questi vengono monitorati e ripartire senza lasciare... Entrano, inquinano e non fanno le... Entrano, inquinano e non lascialo traccia, mettiamola così. E non comprano neanche il carburante. Questo è quello che stiamo facendo con il Ministero dei Trasporti e devo dire che è una base per il Ministero, per prendere poi le decisioni che serviranno. Grazie a tutti.